Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui come tutti i mesi con un nuovo video acquisti, un nuovo video lotto, un nuovo video dove io delapido tutte le mie finanze. E ovviamente oltre a questo malloppo di roba, ci stanno un po' di robe qua che ho preso ultimamente e che adesso andremo a vedere. Se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon e ovviamente finire dentro questa serie, qua sotto in descrizione trovate Instagram, scrivetemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, iniziamo a vedere dove ho buttato i soldi. Allora inizierei da questo mix generico di palta che comunque può contenere roba interessante. Abbiamo infatti questa pulizione dogmatica che come common ti posta a un euro. Poi abbiamo questo drago armato oscuro, condizioni 100-100 playhead. No, no, è un ex, un ex good, però molto, no, è un ex, molto bellino, per qualche format ci può stare. Poi, vediamo, abbiamo common discretamente brutte. Ha questa carina perché si gioca in gotta anche se c'è un po' una spaccatura dietro. Rivalità da Kiko, questa è buona. Poi vabbè, altre common. Qua, roba ginsh, spero in un abisso ginsh, ma dubito. Infatti già finiti. Poi, vabbè, palta, palta, su palta. Uh, carino, macrocosmo, specchio. Vabbè, anche sti virus elettrici non sono male. Anche risucchiabilità, wow. Poi, vabbè, per il resto è... Uh. Ha visto altri tempi, ragazzi. Vi stavo dicendo, per il resto è un po' da lasciare stare sta roba. Dopo il nostro collaboratore qua dietro a cui passeremo tutta sta merda, che dovrà catalogarla. Puoi fare anche un saluto, eh. Puoi fare un saluto che si sente. Ah, ciao. Tranquilli, ragazzi. È pagato. Non c'è... Qua nessuna persona è stata maltrattata o utilizzata come schiavo per sistemare le carte. Conferma, perché se no mi danno del fascista. Lo pago in carte. Mettiamola così. Io continuerai prima che i sindacati si rivoltino e chiedano una paga superiore. Vabbè, per il resto qua... Ragazzi, questa è la roba migliore che... Questa. Che abbiamo trovato. Possessi stare a Star Foil già se ne poteva parlare, eh. Poi, per il resto, vabbè, c'è qualche cartina per Gott. E roba inutile, dai. Spero che nei prossimi ci sia roba migliore perché non ricordo assolutamente cosa ho preso. Ero convinto di aver preso molta meno immondizia. Spia con la scritta verde. Forse un euro ci arriva. Razzo vulcanico. E basta. Allora, andiamo su qualcosa che sembra più interessante. Abbiamo due, tre turge. Un po' di mermail a caso, va bene. Levamoli. Poi abbiamo Fragrance. Roba alla nera. Questo polvere che è carino. Che si vende sui tre euro, attualmente. Poi, vabbè, Goio. Lord Ghis. Ghis. Nodon. Rafflesia. Da Bosch. Questa me la gioco io. Perché non ne ho due ulti. Quindi, devo assolutamente compensare. Poi abbiamo un paio di Ash. Necrovalle. Scontro Godden. Limite d'evocazione. Imperma. Altre rivalità. Onesto. Poi abbiamo Winda Secret che è molto bellina. Anche in ottime condizioni. Poi abbiamo tre Aluber. Come se non ce ne avessi abbastanza. Poi, vabbè, Mettitore Fantasma. Ghost Ogre America. Peccato per i difetti qualaterali. Poi Ispettore Cavalcatavola. Skullmeister. Sai Pilota. Sauravis. Roba inutile. Dei Gamma. Che dovrei caricarli. Perché non sono gli unici che ho. Poi, collezionista di segni e mostri. Un'altra Ghost Ogre. Spaccatura. E mio fratello Dino. Incredibile Secret. Conami, se vuoi fare altri set LC5D. Falli. Falli. Perché sono degli ottimi set. E c'erano delle bellissime di stampe per Reddison. Andando avanti, abbiamo questo bellissimo cosacco. Che ha visto palesemente tempi migliori. Poi, carte che ho strapagato. Che non mi faranno mai riavere i soldi indietro. Che sono queste tre mine. Perché le ho prese? Non lo so. Poi, abbiamo Extravagance. Palta. Tanta palta. Questo quartiere non c'è il Tico Super. Da LDD. Fratellanza. Altra palta. Prometheus. Che... Vabbè. Lo volevano strappare, praticamente. Poi, numero 49. E per il resto... Niente. Belli questi 74. Casomai salisse. Ma non sale. Andiamo oltre. Perché, ragazzi, sono gasato sull'otto sigillato. Che, veramente, lì non so cosa ho preso. Abbiamo tre carte totalmente inutili. Poi abbiamo Ingranaggio Gigante X. Varayana. Sì. Poi Scarafaccio Branco Acciaio. Angelo di Zera. Polvere. Stregone del Caos. Roba Bougin. Sarcofago. Vabbè. E poi... Roba common da Jotl. E da set... Vicini. La roba più interessante. Eccola. Natura Gigasole. E per il resto... Perdo neanche tempo. Se vedo che si fa vedere tutte le common, siamo qua 6 ore. Ok che monetizzo bene, ma penso che dopo 10 minuti vi rompe i coglioni e venne andate. Poi qua abbiamo altra roba common. Forse sombrero è carino. No, sombrero è carino. Non sembra. Poi abbiamo libro di magia del maestro. No. Da CT, sì. Ah, un po' di roba da CT. Ok. Probabilmente sono quelle del Tin di Redox Coperto. In me se sono mischiate qua. Ma vabbè, dettagli. Poi abbiamo Garlandolf. Roba Jarja. Sì. Forse tutto il maestro. Uh, bella questa. Anche questa ha visto tempi migliori. Ne abbiamo una di la messa meglio, però va bene. E per il resto... Dai, beh, bello questo Calus. Non si venderà come quelli super, però sicuramente è una carta più bellina. Andiamo oltre, ma qua penso siamo a punta a capo con i chili de common. Sì. No, ragazzi. Guardate qua la roba da... Il Val. Le robe più belline sono quelle con la scritta rossa. Basta. Libro di Tagliopo. Guarda, queste viola e verde. Cioè, in fumetteria ce le lanciavano quando facevamo i tornei. Guarda, no, ragazzi. Qua sei pieno di common, te lo dico subito. Allora, ma guarda, Mobius così potrebbe essere carino perché se gioca in got o se qualcosina vale. Vabbè. Leviamo, andiamo con questo che dovrebbe essere ancora una caterba di common. Forse c'è qualche common più umana per i formati. E bello. Bello Jojen. Ci può stare Tempesta, stessa cosa, ma ha visto momenti migliori. Poi un altro Jojen. Luce consacrata. Uh, bello Corvo. Super. Tanta roba. Poi, poi, vediamo. Ma se non sbaglio esiste sia Super. Uh, un altro Sasuke. Dovrebbe esistere sia Super che Secret. Super sia in versione economica che tipo stra mega costoso. Poi, vabbè, Light and Darkness, il Rico e basta. Credo che... Abbiamo finito la roba buona. Andiamo con l'ultima parte del penultimo mazzetto. Che qua forse mi dà qualche soddisfazione. Ho visto della roba che potrebbe essere mezza interessante. Allora, vabbè. Common, common. Ragazzi, queste schippiamole. Ok, via. Abbiamo un Ravio Rosso. Peccato che è bandito. Se no, Secret era molto bellino. Una Dionea che non è gold perché quella sta a 7 euro. Demone della Vanità. Belle. Naturia Pen... Peneple. Americana. Bella. Roba magico moschetto. Tutta americana, se non sbaglio. Poi i muri. Distruggi carte. Vabbè, queste sono inutili. I viaggi ho condiviso che non sono male. Set Rotation. Le lani. Vabbè, il testamento della terra va bene. Metaverso da mazzo. Uh, bello. Granito valoroso. Da pa. Carino. Omega. I cavalieri. Sbaglio, vabbè. E della roba un po' per Edison, un po' random. Vabbè, ragazzi, consideriamo meglio sicuramente della schifo di prima, eh. Andiamo con il penultimo. Perché, ovviamente, mi sono ricordato di avere anche sta cosa... Cioè, sta roba. Allora, quindi qua. Cioè, guardare questa roba è un modo per confermarmi che non c'è niente. Aspetta, aspettate. Ho visto qualcosa di interessante. Un Onnesto in prima edizione. Messo Good. Però ho messo relativamente bene. Sì, guarda che bello. Un Onnesto Secret in prima edizione. Poi abbiamo un Dente di Leone. Che hai visto, ovviamente, in momenti migliori. Traversaurus Secret. Dolka Secret in due per. L'agia due da pack e uno da tin. Queste sono belline. Dai. Qualcosa di umano c'era. Ero convinto non ci fosse più niente. Non gli avevo dato fiducia. Poi, andiamo avanti. Abbiamo giara dei desideri. Roba inutile. Spiglio di meditore. Ultra. Bellino. Un'altra punizione dogmatica. Tanto per non farcela mancare. Un paio di ecclese. Altre punizioni dogmatiche. Secret. Molto belline. Poi, se non sbaglio, ci dovrebbe essere un mostro normale che costa una caterba di soldi. Eccolo. Eccolo. Ragazzi, questo coso, quando mi è stato portato il lotto, non lo volevo valutare. Perché pensavo stesse tipo a 50 centesimi. Alla fine lo abbiamo valutato. È perfetto. 17 euro. Che merda. Che set di merda. Veramente. Anche la roba che non dovrebbe stare a niente. Vale. Senza, senza alcun motivo. Vabbè, poi abbiamo questo in trucco. Troppo bellino. E Tidal. Sì, Tidal. Sarebbe bello. Tempest Secret. Poi, Archidamano Dominatore. E niente. Abbiamo finito. Poi, boh, ve le passo velocemente queste. Ma, da come potete notare, non c'è assolutamente niente. Bene. Famo c'è spazio. E passiamo a i Death Box. Che cosa conterranno? Assolutamente niente. Saranno una sfilza dei common. Mi faranno solo perdere tempo. Sto abbastanza convinto di questo. Sì. Sì, sì. Tutta, beh, bella la Stigian. Ma non credo di... Oh, carino il cacciatore del caos. Non credo di trovarmi un playset di allure così per ride, eh. Beh, virus devastate. Ci può stare. Poi... Uh. Beh, questa è carina. Sta tipo 4 euro. Ecco, se me ne escono un'altra 10 da qua dentro, potrei essere contento. Andiamo col secondo. Vediamo qua cosa abbiamo. Vabbè, un'altra pattuglia stradale. Forse porta bene e tiriamo fuori il ciupacabra. Ma non credo. Dai, dammi le gioie. Dammi le gioie. Dammi le gioie. No. Uh. Proibizione. Wow. Meglio di niente. Meno quella se gioca in editor. Uh. Bello il stradale dei cannoni, ma non è quello da turbopack. Queste. Queste dovrebbero stare a qualcosina. Perché sostituiscono il re delle paludi. Poi, poi abbiamo... Un altro oceano. Vabbè. Gli oceani alla fine vanno sempre bene. Tanto sempre si giocano in Edison e Hero. Poi. Andiamo con il prossimo. Dai, dai. Ma se... Qua sarebbe incredibile se uscisse un... Un acid. Lì mi svolterebbe la giornata, ma non credo. Perché sono tutte comuni. Abbiamo capito com'è l'andazzo. Non si può mai sperare in qualcosa di bello. All'interno delle scatole. No, infatti. E andiamo con l'ultimo. E poi andiamo con la roba più cicciotta. Allora, abbiamo un nuovo Neos. Un altro nuovo Neos. Un altro oceano. Ha comprato un botto di strutture, il tipo che ha chiamato sta roba. Sì, probabilmente ne ha comprati tipo tre e ha preso altri oceani. Bene. Abbiamo finito. Finalmente. Adesso, ovviamente, tocca il pacco grosso. Sperando di non tranciarmi né le gambe e né rompere le figurine. Diciamo che mi preoccupa di più rompere le figurine più che tranciarmi le gambe. E no, ragazzi, non è l'autopatia, eh. È interesse economico. Alan, ma perché me fai sti pacchi così impossibili da aprire? Dopo il postino, pensa che compro droga. Se continuo ad arrivare a me pacchi del genere. E già se sta facendo due o tre domande, visto che viene sempre a casa mia. Dovremmo avercela fatta. Alan, se continuiamo così, cioè qua uccidiamo i delfini. Allora, andiamo. E vediamo che cavolo mi ha spedito. Sembra più roba di quelle per cui ci eravamo accordati. Vabbè, abbiamo un Reaper Common. Poi Parallel Exeed, a posto. Era l'ultimo che mi mancava. Roba Lirilusk. Poi l'ho preso e poi è salito. Grande, Alan. Sempre sul pezzo. Roba Lirilusk. Eh, anche le bambine. Allora, tu cosa ne pensi di bambine piccioni? Cioè, bambine vestite da uccelli. Va bene, capisco. Allora. Abbiamo tutto il reparto, buono. Non me lo ricordavo, ma abbiamo anche un Armor Master. Ottimo. Un Revival King Ades. Americano. Poi, Drago del Sino Imperatore. Peccato da Reprint. Dei Pomodori Mistici. Poi abbiamo Libro della Vita. Maestro Zombie Super, bello. Poi, Tartaruga Piramide. Come avevo detto esisteva anche Super. Ne abbiamo una e due. Poi, passando avanti, abbiamo questo Kaios in prima, messo bene. Poi, Gale, messo bene. Nuovo Neos, messo bene. Poi, Zombie Goblin. In una, due copie. Poi abbiamo questo Cavaliere Lama, che mi piange il cuore perché lo volevo NM. E, voglio giocarlo in Got, ma, mi sembra che non posso, per un playset umano. Poi abbiamo Signora Guerriera di The Secret. Anche questa è super come messa. Si è messa bene Godo. Da un angolino un po' rovinato, però veramente una bella carta, ragazzi. Questa tanta roba. Altro che questa Secret. Questa, questa fa i buchi per terra. Questa, questa banna tutti i mostri che c'è in campo, eh. Questa invece non banna proprio. Queste possiamo buttarle anche nel cestino, dai. Poi abbiamo Sasuke Maestro Ninja, Forza Esiliata, Lo Spadaccino, Deikiko, L'Assalitore, Don Zalong Secret e Common. Belli. Quello Secret va a finire Warrior, 100-100. Allora, togliamo anche questo e andiamo con le ultime. E vediamo cosa riesco a tirare fuori. Che poi riesco. Già pagato, già mio. Abbiamo questo Mago della Fede, quest'altro Mago della Fede, quest'altro Mago della Fede, quest'altro Mago della Fede, quest'altro Mago della Fede. Abbiamo un botto di Mago della Fede. Poi abbiamo dei Decoici da Speed Duel. Poi VLS, 2x, la spia, in 3x. Drago del Tuono, super. Da Isu, Bellini. Poi questo è Tigre Reale Wangu, che adesso ricordo di averle prese. Questo schifo costa 8€ l'uno, eh. Che merda. Poi abbiamo Virus, che finalmente me ne potrò giocare uno messo bene, e vendere il mio distrutto. Poi abbiamo Borrelo Dragon, Breaker, Mobius, Serpente, Mago dell'eroe Chaos, Gorilla Berserk, Prete, God of Creed, Charity, 2 di meno, in lingua umana, finalmente. Così gioco questo e dobbia quello tedesco. Poi, nel pratico, lo reprinteranno nei set che usciranno a breve, quelli nella Legendary Collection e ad agosto quando usciranno i box. Quindi, nel pratico, queste varranno, boh, la metà. I best investimenti. Poi abbiamo Schiacciare, Schiacciare, Sepoltura, Sepoltura, Snatch Steal, Snatch Steal, Grande Tronade, Polimerizzazione Secret, Livro della Luna Secret, Ricasso Super da Sesla, Fulmine, Jara, un altro BLS, un'altra Jara, un'altra Jara. Anello Ultra, sarebbe stato bellino se era lo start. Poi Frattura, Tributo, Richiamo, Forza Riflessa, vabbè, questa roba inutile. Abbiamo poi della roba GB. Abbiamo Eraclinos, Super, Gizarus Super, un po' di gladiatori qui, un po' di gladiatori. E ovviamente sarebbe bello che qua dentro ci fossero retiari, ma i retiari non c'è. Che bello. E bene, ragazzi, io mi ero tipo dimenticato di farvi vedere questa cosa, che faceva parte dell'otto. Mi sembrava poca roba. Va bene, dai. Andiamo, poi, cosina bonus, eh, che è arrivata oggi. Allora, abbiamo un paio di Dark Law, Super, da Structure, vabbè, altra roba random, così. Poi abbiamo un po' di Fire Fist, roba Fratellanza Pugni di Fuoco, che, vabbè, questo è Super, questo è Super, questo è Ultra. Ma è rovinato. Poi abbiamo Antilope qua, che non è male. Pavone, Trisbane, poi vabbè, Aquila. Altra roba Fire Fist, quella che costa, non la merda. Relefante, Tre Panda, la Reprint del Gallo, il Lupo Abbaia, che è da pack. Roba di classe. Poi, vabbè, abbiamo due riete. E poi Yashka, vabbè, la roba Fire King. Altra roba Fire King a caso. E anche queste trappolatrici che non si giocano. Poi, ah, due Domei, così. Fioriera, che non è male. Altra roba inutile. Sinto, ma credo non stia niente. E Celestina, così. Prigione, Iroh, Zanji, che sono su, Ultra, che non sono male. Altra roba inutile. Bene. Andiamo al pacchetto di roba che ho comprato, che finalmente è arrivato. Ragazzi, potrò finalmente giocare il mazzo più bello del mondo. Ovvero, Guardiano del Cancello. A breve, Decklist. Mesi fa, probabilmente, avete visto la Decklist sul canale. Allora, allora, abbiamo, ovviamente, un po' di roba Guardiano del Cancello, tipo il playset di tutto. Sì. Spero, perché non mi metterò qua adesso a contare le carte, ma dovrebbe esserci il playset. Abbiamo Thunder, Kazejin, Suijin, Guardiano del Cancello. Un po' di antichi draghi fatati. Perché sì? Manca un Thunder e un po' di roba di extra. Vabbè, spero che stia qua. Poi abbiamo questo bellissimo Hatchel Synchro, che io prevedo il futuro già quando voi vedrete questo video. Questo sarà a 50 euro. Poi, vabbè, il Firewall nuovo, la Chimera, Baron the Floor e altra roba Guardiano del Cancello. Perché c'è un problema. No, tre Thunder. Ok. No, sono tutti. L'avevo visto male, vabbè. E niente. Finalmente la mia robina nuova di extra è arrivata. Non vedo l'ora di provarla. Per un mazzo che non gioco più, quindi top. Però, vabbè, a breve avete già visto la lista del Guardiano del Cancello. E vabbè, ragazzi, il video finisce qua. So che era un lotto più piccolo rispetto al mio solito, dove spendo migliaia di euro e c'è roba incredibile. Ragazzi, o ve lo guardate così o non ve lo guardate. Vabbè, nel caso voi avete ormai lasciato like, avete già commentato. Gli siete già iscritti? A posto. Oramai avevo fregato e mi tocca rimanere qua. Mi dispiace. Il prossimo video lotto sarà enorme. Ancora non ce l'ho, però sarà enorme. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.